Ciao a tutti, oggi vi mostrerò qualche esercizio per mantenere vive le vostre giornate. Partiamo con qualche esercizio di riscaldamento. Via con gli skip, su con le ginocchia. Possiamo anche toccarle le ginocchia in questo modo, con le mani. Ok, dopodiché ci riposiamo qualche secondo e possiamo fare altri esercizi, come ad esempio il jumping jack. Via! Non è finita qui, perché ne abbiamo altri ancora. Come ad esempio il mountain climber da terra. Da questa posizione, via, giocchia su. E vai con il riposo.